All'angolo blu, all'appeso di 63,900 kg, con un record formato da 36 incontri, 23 vittorie, 10 sconfitte e 3 pari, è un'atleta della Nazionale Italiana per il Professional Combat Team da Genzano di Roma, Alessio Boccale. Contro di lui, all'angolo rosso, al peso di 63,400 kg, con un record formato da 18 incontri, 12 vittorie, 5 sconfitte ed un pari per lui, per il team Colde Combat da Roma, Alessandro Moretti! È la prima ripresa! Porta il mio! Al passo! Al passo! Al passo! Al passo! Al passo! Vieni su quel braccio! Apri con le braccia dritto, no? Apri con le braccia dritto, no? Apri con le braccia dritto, no? Ok? Ok? Vai! Aspetta, guarda lì! La volta! Dai, dai, dai! Vai, troppo! Vai, послед终! Arredita! Dai, dai! Vai, vadate! Vai, sai, vai, vai! Vai, giù, in contro! In serio! In serio! Inamicio! Parlo! Parlo! Vai, esce, esce! Parlo! Parlo! Parlo, Pa! Parlo, parlo! Parlo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È la seconda ripresa. Grazie a tutti. 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 Ed è la fine dell'incontro. Split decision. E quindi vince questo incontro ai punti ed è il nuovo campione italiano pro categoria 64 kg e 500 per il K1 Runes. All'angolo rosso da Roma, Alessandro Moretti. Ma vorrei anche un grande applauso per un grande guerriero del ring, Alessio Boccale. De Concord. Alessandro Moretti